Musica Continuano gli appuntamenti delle 3 2014 e questa è la volta di Sunset Overdrive che abbiamo provato sia sullo show floor della fiera sia in un evento separato, serale tutto dedicato alla line up di Microsoft abbiamo avuto modo di provare le due principali modalità ossia quella campagna che presenta degli obiettivi sia invece una modalità cooperativa che ricorda molto la classica orda di Gears of War quindi si combatte in 8 giocatori contro ondate progressive di nemici la particolarità è la possibilità di piazzare trappole tra un turno e l'altro tra un'ondata e l'altra di nemici che quindi poi possono aiutare nel round successivo naturalmente i round si fanno sempre più difficili e si cerca di resistere sempre più a lungo le particolarità del gioco le abbiamo però scoperte di più nella modalità invece campagna e ci siamo resi conto di come gli sviluppatori vogliono letteralmente costringere il giocatore a non stare a livello del suolo ma sempre sollevato per fare questo hanno implementato la meccanica del grinding ossia la possibilità dopo un salto di agganciare tutta una serie di superfici con rimano, cornicioni e via discorrendo e di scivolare sulla loro superficie anche eventualmente invertendo la direzione di scivolata con una velocità crescente man mano che si scivola sempre di più e invece un rallentamento del tempo quando durante la scivolata si prende la mira tutto questo è abbinato al fatto che i nemici sono estremamente forti e pericolosi quando ci si trova al suolo quindi tutta la meccanica di gioco consiste nel stare sempre mai al livello del suolo e sempre sopraelevati in modo da avere la meglio sui mutanti gli obiettivi da completare sono di vario tipo spesso si tratta di distruggere un oggetto specifico o di eliminare un certo numero di nemici e abbiamo notato anche l'occasionale comparsa di boss gli unici dubbi che abbiamo adesso sono relativi proprio alla varietà complessiva dell'offerta perché per quanto la mobilità sia apprezzabile però ecco questo susseguirsi di obiettivi non ci è sembrato più di tanto vario quindi siamo ansiosi di provare una sessione di gioco più prolungata per capire appunto se gli sviluppatori riusciranno a fornire una varietà tale da giustificare anche la grandezza dell'ambientazione che sembra più che discreta c'è invece convinto ancora una volta lo stile di gioco il design che si è confermato assolutamente fuori di testa anche per le armi implementate dal famoso spara vinili ad un'altra arma che spara fuochi d'artificio insomma gli sviluppatori sono letteralmente sbizzarriti in questo senso e anche la città è molto ben caratterizzata, coloratissima ci sono anche queste onomatopeiche quando si spara che compaiono magari formate dal fumo, dall'esplosione molto cartunesco, molto convincente e abbiamo avuto anche un assaggio della personalizzazione estetica del protagonista che sembra essere molto approfondita quindi sul comparto grafico e stilistico davvero nessun dubbio siamo più che convinti l'altro dubbio piccolo che abbiamo è relativo ai controlli perché ci è sembrato che spesso il salto e l'aggancio del grinding siano un po' imprecisi e in un gioco che si basa tutto sull'agilità del protagonista chiaramente questi sono dei fattori cruciali quindi aspettiamo di vedere se queste piccole imperfezioni verranno modificate nel prossimissimo futuro anche perché ricordiamo che il rilascio è fissato a questo autunno